un visionario poetico a fresco sul tema della libertà iniziato venti anni fa nella praga della repressione e subito bloccato per ragioni di censura esce ora questo grande film di yuray jacubisco coprodotto da rai 2 che descrive l'iter di un sogno di libertà data l'eccezionalità dell'avvenimento rai 2 per la prima volta in contemporanea con la mostra del cinema di venezia presenta al suo pubblico arrivederci all'inferno amici un film di jacubisco giovedì 23 e 5 rai 2 beh agostini ha scelto per voi i film i registi e gli attori più premiati i grandi capolavori del cinema italiano ed internazionale due grandi opere a fascicoli videocassette per conoscere e collezionare il meglio del grande cinema i grandi capolavori del cinema italiano ed internazionale in edicola il gatto pardo il laureato a sole 14.900 lire il cinema un'esclusiva ad e agostini quality video seat imizza diventa super lo straordinario è di serio motore seat system wash alza cristalli elettrico l'unotto termico doppi retrovisori cerchi in lega interni prestigiosi chiusura centralizzata contagiri doppio spoiler tutto di seat cambia marcia scegli seat imizza seat una marcia in più in dieci anni totip ha fatto vincere più di 600 miliardi totip se non giochi non vinci buonasera nella situazione di stallo che si è buonasera 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 buonasera